Chiuse le indagini sul crack da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud-Est nei confronti di 28 persone, fra le quali Luigi Fiorillo, ex commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società pugliese. Gli indagati sono accusati a vario titolo di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale di dissipazione e distrazione di fondi. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a quando la società è stata commissariata. Circa un anno fa Ferrovie Sud-Est è stata acquistata da Ferrovie dello Stato e nelle scorse settimane i creditori hanno votato a favore del concordato preventivo, salvando l'azienda dal fallimento. Nell'ambito di queste inchieste, il primo febbraio scorso furono eseguiti dalla Guardia di Finanza sequestri per circa 90 milioni di euro e 11 indagati furono arrestati. Cinque di loro sono ancora detenuti agli arresti domiciliari e per altri tre è stata disposta la misura interdittiva. L'avviso di conclusione delle indagini, che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, è a carico dell'ex amministratore Luigi Fiorillo, di Angelo Schiano, amministratore occulto e avvocato della società, di Fausto Vittucci, revisore e certificatore dei bilanci IFSE e di altre 25 persone, fra imprenditori, ex dirigenti, consulenti e progettisti. Stando all'indagine della magistratura barese, Fiorillo è in concorso con consulenti e funzionali della società e imprenditori, avrebbe dissipato o distratto fondi per centinaia di milioni di euro nell'arco di circa 10 anni, falsificando bilanci ed esternalizzando servizi senza fare gare d'appalto. In particolare, Fiorillo avrebbe intascato circa 5 milioni di euro quali compensi per attività di supporto, senza averne le competenze, in 39 appalti di lavori pubblici su tutto il territorio regionale, addebitandoli come spese per il personale e più di 7 milioni sottoscrivendo co-co-co per attività mai svolte. Tra i fondi dissipati ci sono, secondo l'accusa, circa 27 milioni di euro dati all'avvocato schiano per attività di assistenza e consulenza legale. Altri 53 milioni di euro sarebbero stati indebitamente erogati per la gestione di servizi informatici. Proseguono l'indagine della procura su un altro filone relativo al crack di ferrovie sud-est, quello che coinvolge alcuni funzionari di BNL, istituto di credito di riferimento della società. Allora i magistrati baresi contestano i reati di bancarotta fraudolente impropria per effetto di operazioni dolose ai danni della società ferrovie sud-est e bancarotta fraudolenta preferenziale in favore di BNL.